Buongiorno a tutti, anche quest'anno Isola Industria patrocina l'iniziativa di Lab&Lab, parliamo di efficientamento delle reti di acquedotto e di fognatura. Isola Industria è sul mercato italiano e internazionale, da più di 60 anni produciamo sensori di misura elettromagnetici e distribuiamo per il mercato italiano una serie di casi di ponte in via. Questa mattina in particolare siamo qui per parlare di Rezatec, un'azienda che da quest'anno distribuiamo in esclusiva sul mercato, un'azienda che fa uso del satellite per l'efficientamento delle fognature guidando gli utilizzatori a identificare le aree in cui si trova la maggior probabilità di perdita. In particolare riusciamo a individuare il 30 per cento della rete su cui si hanno il 70 per cento dei problemi e questo grazie non solo sull'esterti ma soprattutto alle informazioni che possono derivare dalla rete integrate con l'intelligenza artificiale per andare a definire dove investire meglio le proprie risorse che spesso volentieri sono limitate al fine di risparmiare in termini di gestione. Nella giornata di domani parleremo invece più in specifico di intelligenza artificiale, di applicazione del wireless sensor network dell'IoT sempre sui temi legati efficientemente ai reti di acquedotto di fognatura. Grazie.